Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Ore 14 di oggi poveriggio. Un'esplosione, un incendio, un boato. Hanno turbato la tranquillità del comune di Cellino Attanasio. All'interno di questo capannone, dove si dovrebbe iniziare a lavorare in futuro, stavano facendo delle prove per un nuovo tipo di produzione, l'anna di roccia, per la Decem, una società che ha anche altri capannoni in questa zona industriale. Ebbene, qualcosa non ha funzionato e c'è stata questa esplosione e questo incendio. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, della polizia, dei carabinieri, per domare le fiamme e mettere tutto in sicurezza. Il bilancio parla di due feriti che sono stati trasportati all'ospedale di Atri, anche grazie all'intervento di un elicottero che ha sorvolato la zona, ma dopo due ore la situazione è tornata alla normalità. All'interno c'erano dei macchinari nuovi che dovevano essere evidentemente testati per il futuro lavoro e qualcosa non ha funzionato e adesso saranno le indagini che si stanno facendo a stabilire che cosa ha causato l'esplosione e quindi l'incendio. Dicevamo due feriti, due ustionati, trasportati all'ospedale di Atri, per fortuna non gravi, ma il bilancio poteva essere molto più pesante. Fortunatamente così non è stato. Un'esplosione diciamo che è stata di minime dimensioni. Purtroppo sono state coinvolte due persone, ma in forma lieve. Adesso abbiamo avuto anche delle informazioni presso dall'ospedale dove sono ricoverati. Poteva andare peggio, però ringraziando Dio, come si dice, in questa occasione è andata bene così. Grazie a tutti.